buongiorno a tutti ragazzi come ci si sveglia il giorno una buona buonissima ottima prestazione della juventus con ben quattro gol segnati direi molto bene come state il giorno dopo di solito facciamo sempre le pagelle e quindi eccoci qua ancora una volta con le pagelle di juventus sampdoria mi piace un video in cui non abbiamo niente da recriminare la juventus e l'unico gol che prende lo prende anche per sfortuna direi che possiamo essere tutti contenti soddisfatti e lasciare 4000 like quattro gol mille like a gol mi sembra un giusto compromesso e scaricate con football i link per farli qui sotto in descrizione perché il 19 di gennaio voi mi insegnate che a fine mese chiude il calcio mercato e siamo ancora qua cit vasco rossi c'era quel discorso legato ad artur io ve l'ho detto chiaramente io terrei artur e prenderei una prima punta vediamo come va e ora vediamo come va perché anche ieri sera arriva bene ha parlato sia del nuovo di dibala ma anche di marciale ha detto che vabbè leggete su buon football potete scaricarlo anche scannerizzando il qr code che è qua eccolo qui passiamo subito all'allenatore allora adesso qua voglio fare un discorso perché ieri sera ho scherzato no sul fatto del dell'anducci ball ma mi sembrava giusto fare un veramente una pagina di ironia ma spesso volentieri facciamo queste cose questi jokes pensavo che le persone non mi prendessero sul serio per quella che era palesemente una stronzata diciamolo sottovoce perché non mi piace di solito dire certi termini però era ovvio ragazzi nel senso che la partita la prepara allegri la formazione la prepara allegri gli allenamenti fino adesso li ha gestiti allegri quindi è ovvio che il l'anducci ball è l'allegri ball sono praticamente lo stesso allenatore sono il primo e il vice vanno per forza avanti di pari passo su una linea parallela uno all'altro non è che uno va in una direzione uno nell'altra e poi a un certo punto si intersecano no non funziona così sarebbe grave avere un allenatore un vice che pensano due cose diverse quindi è ovvio che datelo a chi volete il sette in pagella perché di sette stiamo parlando allegri l'anducci non c'è problema io l'unica cosa che davvero mi sento di dire in maniera seria su questa cosa qui è che ieri sera l'anducci non ha mai chiesto di fermarsi e di gestire il pallone questa è l'unica cosa che mi sento di dire l'anducci spesso continuava a dire agili non frettolosi rapidi non frettolosi perché voleva continuare a vedere una squadra che andava all'attacco ora io capisco che in questa stagione con allegri in panchina se si sono segnati quattro gol soltanto in champions league nella partita con lo zanit è l'unica occasione invece con l'anducci due volte l'anducci panchina otto gol e infatti era questo lo scherzo no il discorso di landucci martuscello le finale di champions e queste robe qua però dobbiamo anche ricordarci che nelle passate stagioni in cui massimiliano allegri è stato in panchina la juventus ha più volte fatto goleada ci sono state tante partite in cui abbiamo portato a casa il risultato con tanti gol di scarto ci sono state le partite da 1 a 0 ci sono state le partite da 2 a 1 ma ci sono state anche tante partite in cui non ci si preoccupava e io credo che in questo momento si torna sempre a quel discorso allegri è ancora molto preoccupato di questa squadra non si fida ciecamente di questi uomini ma perché semplicemente ha la concezione che non è la solita juve che allenava allegri questo l'ha capito secondo me all'inizio anno allegri aveva un po sopravvalutato la juventus quando si siede in panchina fa gli allenamenti fa le primissime partite come allegri li aveva molto sopravvalutato la juventus e come dice lui ci vuole calma per arrivare a certi risultati il fatto che ieri sera si sia fatta una partita del genere è frutto del lavoro che si è fatto in questi mesi da allegri da landucci non è che se ieri sera landucci ha vinto 4 a 1 e tutto merito su invece allegri è un coglione se vogliamo parare il calcio in questo modo possiamo farlo però sappiamo che non è il modo intelligente di farlo perché non è una critica questa nei confronti allegri quello che vi dicevo l'altro giorno ci vuole rispetto e pensare che allegri sia più scarso di landucci penso che sia abbastanza irrispettoso per un allenatore che ha vinto tanto in carriera e ha dimostrato tanto in carriera poi se vogliamo fare il solito discorso distruttivo nei confronti di un tesserato perché non ci sta simpatico allora ragazzi io qua alzo le mani però ricordatevi che è una vostra crociata non è quello che è accaduto l'unico discorso che mi porto dietro è ovvero questo che landucci abbia continuato ieri sera a chiedere la volontà di andare a giocare invece per dire vi ho fatto l'esempio dell'udinese l'altra sera allegri sul 2 a 0 a pochi minuti dal termine chiedeva la gestione del pallone per poi eventualmente arrivarci in contropiede quindi non più sbilanciarsi per difendere il vantaggio che c'è già ma l'abbiamo visto tante volte eh in tanti anni con allegri questa cosa qui come vi dicevo prima ci sono state le goleade ma ci sono state anche tante partite in cui ci accontentavamo della gestione ma lo potevamo fare erano anche i juventus molto molto forti con difese veramente marmore nel loro prime e si poteva fare oggi non mi sento di dire che questa juve possa fare una roba del genere è una squadra che sulla carta dovrebbe ripartire ma lo abbiamo visto in realtà è una squadra che costruisce molto di più per azioni manovrate perché le ripartenze siamo sempre imprecisi in una maniera incredibile anche ieri sera un paio di ripartenze bruciate quando andiamo in velocità siamo veramente poco precisi invece con le azioni manovrate gira la palla gira la palla gira la palla gira la palla cambio lato gira la palla cambio lato gira la palla cambio lato siamo una squadra che fa tanto possesso palla molto anche sterli indubbiamente però come dice l'allenatore con calma con calma e poi le cose arrivano mi pare di vedere che al di là del fatto che la samba di riuscire è stata veramente poca roba le cose pian piano arrivano davvero è perché guardiamo i risultati di questa juve da ottobre da novembre in poi direi che bene o male si stanno facendo delle cose discrete e di questo sono contento quindi è quello che vi chiedo da qualche tempo a questa parte non si può giudicare tutto subito e io ve l'ho detto tante volte fosse stato un qualsiasi altro allenatore con una partenza del genere probabilmente si sarebbe parlato di esonero ed è giusto essere arrabbiati quando le cose non vanno bene ma da un po di tempo a questa parte le cose vanno discretamente bene poi se il discorso è no per me le cose vanno bene solo quando la juve esprime un gioco spettacolare allora ho una brutta notizia per voi probabilmente dovrete mettervi il cuore in pace ma in questo momento storico penso che si possa essere abbastanza soddisfatti di quello che sta avvenendo in stagione quindi bravi i nostri allenatori entrambi poi scegliete voi se il voto il 7 darlo allegri darlo all'anducci dividere tra i due non mi interessa questo era un po tutto quello che che avevo da dire per in senza voto perché poveraccio non ci sono colpe non c'è nessuna responsabilità sul gol di conti tra l'altro l'ho gufata perché ho detto conti credo che sia uno dei terzini peggiori della serie a in questo momento peggio anche di alexandro ci ha fatto gol colpa mia scusate parliamo proprio di alexandro subito io gli do 6 io ho visto che è stato massacrato anche nei commenti ieri sera continuate a dirmi eh però alexandro ha preso gol dalla sua parte è curioso perché comunque continuiamo a prendere gol dalla sinistra eh io credo che questo sia un vero e proprio punto debole della juventus mi viene in mente napoli inter e quello di ieri sera tutti e tre dalla sinistra tutti e tre con alexandro in campo però a dovere di cronaca per onestà intellettuale ieri sera alexandro ha semplicemente fatto la diagonale perché la sampdoria attaccava dalla sinistra quindi il terzino destro il sciglio era andato su culamo lì i centrali si sono mosse di conseguenza alexandro fa la diagonale loro sono molto bravi a cambiare gioco metterla dall'altra parte esce fuori anche un tiro famoso tiro della domenica gollonzo della sampdoria che incrocia bene becca il palo quindi non me la sento di dire che è colpa di alexandro è una partita sufficiente io credo che il 6 sia il voto giusto niente di trascendentale ma nemmeno errori gravi come appunto napoli e inter quindi 6 6 pure per de sciglio solita partita ordinata solita partita da de sciglio queste sono proprio le partite da de sciglio quelle partite che il difensore ti gioca sa che ne gioca poche sa che non deve strafare però ieri sera ci ha provato ieri sera ha provato anche a tirare in porta ormai è su una wave positiva e quindi dice oh si sa mai che venga fuori qualcosa però una partita solida una partita buona di de sciglio che molto spesso ha accompagnato anche quadrado sulle sovrapposizioni quindi bene niente ripeto niente di assurdo però una partita sufficiente assolutamente sì come è stata una partita sufficiente di danilo e di questo sono veramente molto contento perché mancava da tanto danilone giocatore importante è per noi danilo speriamo di recuperarlo al 100 per cento il prima possibile ieri addirittura difensore centrale non ha fatto sbavature non si è nemmeno mai visto perché sa quale occasione seguiva gli ordini di rugani in difesa seguiva gli uomini poi esce perché ovviamente non è 90 minuti nelle gambe se è anche per danilo bentornato rugani 7 invece e sono molto contento di questa cosa molto contento di questa cosa perché io guardate guardo le valutazioni che ho dato tra serie a e supercoppa adesso di rugani delle partite delle partite che ha fatto nel filotto che ha fatto serie a con napoli 6 e mezzo con la roma 6 con l'udinese 6 in supercoppa 5 e mezzo l'unica sbavatura in supercoppa dove non era magari era stato un pelo impreciso però stiamo parlando di un 5 e mezzo io oggi gli do 7 tutte queste cinque partite che ha fatto ragazzi le ha fatte molto bene rugani secondo me trova anche il gol ieri addirittura tre occasioni da gol per rugani poteva fare paradossalmente doppietta io sono contento sono contento quando un giocatore così umile e dedito al lavoro e che sta zitto perché è facile è facile quando poi i giocatori rompono i coglioni perché non giocano invece no ci sono dei giocatori appunto come desciglio come rugani non rompono i maroni stanno lì zitti lavorano quando tocca loro tocca loro bravi l'unico problema non mi mai di dirlo è che sia rugani che desciglio che bernardeschi percepiscono degli ingaggi molto elevati in questo momento per essere delle semplici riserve della juve e quindi se si parlerà di rinnovo rugani scade nel 2023 quindi non è la priorità per forza di cose molto arrivasse però giocatore giocatore utile rugani io sono sempre di quella secondo me il fatto che sia il quarto centrale comunque in linea e mezzo servizio un bonucci che inizia a invecchiare non è il massimo dovrebbe essere il quinto se proprio proprio però pare vedere che stiamo un po stringendo la cinghia anche su quel discorso lì giusto che sia così momenti di difficoltà 7 rugani 7 e mezzo a quadrado perché è stato credo il giocatore più impreciso nei primissimi minuti di gara perché ha sbagliato 200 passaggi mi pare di capire però poi la sblocca spunizione sui piazzati è pericolosissimo sulle ripartenze è incredibile alla fine rischia anche la doppietta in più di un'occasione quando lo sostituisco non volevo uscire perché voleva finire una gara in coppa italia nella quale si stava galvanizzando c'è da ricordarsi che domenica c'è il milan mi sembra leggermente più importante come partita però bene 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 quadrado di risera bene 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 dagli angoli le punizioni ai contropiedi l'abbiamo visto spesso anche in posizione centrale una buonissima partita di quadrado di risera buonissima poi il plus il plus il plus di segnare anche su punizione dopo un anno e mezzo da agosto 2020 che non lo facevamo con ronaldo dai guano rabbio 6 e mezzo buona partita rabbio ieri sera rabbio mi è piaciuto anche largo a sinistra mi è piaciuto però c'è da dire che ieri sera ed è un po quello che vi ho sempre detto su rabbio non è tanto il fatto che rabbio sia titolare nazionale è il fatto che quando giochi in nazionale di fianco a lui ci sono giocatori come pogba e cantè è un conto e se giochi in nazionale tu rabbio e sei il giocatore più forte del centrocampo allora lì è un problema un altro discorso è se sei il terzo centrocampista all'interno di un centrocampo forte quindi se è mezzo di rabbio ieri sera becca anche il palo è stata una buona partita non è quello il suo ruolo lo sappiamo quindi tante volte ha fatto fatica anche sulla fascia ma c'è stato anche un paio di occasioni invece che ha fatto delle sgruppate interessanti continua a non piacervi in quella posizione però se al fianco di rabbio metti un centrocampo allora vedrai che non è così scandaloso traduco traduco con locatelli artur io ora qui probabilmente sarò un po eccessivo lo dico lo ammetto sarò un po eccessivo ma do sette e mezza entrambi do sette e mezza entrambi perché sono stato veramente sbalordito sbalordito dalla qualità e dalla quantità di palloni che sono stati toccati ieri sbalordito perché si completano alla perfezione questi due poi saranno questi i due centrocampisti titolari da qui alla fine non lo so anzi vi dico non so nemmeno se rimarrà artur paradossalmente però spero che ieri sera se allegri aveva qualche dubbio inerente al questi due insieme possano tenere su il centrocampo perché questo è il dubbio più grande di allegri è il fatto che artur non copra una porzione di campo adeguata come invece fa bentancur però dobbiamo scegliere un certo punto se ci preoccupa di più coprire la porzione di campo perché non ci fidiamo questa juve o se provare a giocare le partite perché con arturo e locatelli a centrocampo tu le partite le puoi giocare poi ci saranno delle partite come per dire l'inter finale di supercoppa cui probabilmente era complicato andartela giocare a viso aperto con quell'inter con tante assenze e lì la partita umile secondo me ci stava farla sulla carta diverso sarà col milan domenica perché il milan ha tante difficoltà in questo momento tante assenze ce le hanno loro quindi io spero spero che provare artur locatelli ieri sera dal primo minuto in una gara non dico inutile perché non è inutile ma di minor livello rispetto a quelle che avverranno possa essere visto come una sorta di vediamo come va poi cerchiamo di capire se lo possiamo replicare anche in partite con grado di difficoltà maggiore non so se a san siro col milan sarà artur locatelli me lo auguro non vi do la conferma definitiva al cento per cento ma dopo una partita così gestita così da tutti e due io spero che si possa rivedere a patto che ovviamente artur rimanga e se si voglia intervenire sul centrocampo che si vada a prendere un giocatore in più non uno in meno non esce artur e arriva un altro se si vuole un centrocampista a tutti i costi ne dico uno zaccaria che tra l'altro bel giocatore me lo sto studiando in questi giorni vi porterò qualche video prossimamente bel giocatore ok che arrivi per essere un giocatore in più se davvero vogliamo passare il centrocampo a tre se davvero le rede di chiesa e meccenni perché abbiamo deciso di non investire sul mercato e semplicemente sfruttare meccenni in fascia al cento per cento allora probabilmente un centrocampista in più serve ma non cedetemi artur ve lo chiedo per cortesia ve lo chiedo per cortesia perché già l'anno scorso è stato il nostro faro in un centrocampo veramente di basso livello quest'anno insieme a locatelli può fare grandi cose davvero può fare grandi cose e soprattutto dalla possibilità locatelli di andare su perché quando locatelli si avvicina all'area di rigore ci ha provato due occasioni ha provato due volte l'assist ha potuto sfoggiare diverse giocate tecniche di alta qualità negli ultimi metri è la soluzione ragazzi mister è la soluzione pensiamoci bene già san siro col milan dove non ve lo garantisco ma pensiamoci kuruseschi 5 non non mi è piaciuto ragazzi c'è poco da dire su kulu credo che sia stato l'unico insufficiente nella gara di ieri l'unico in assoluto l'unico 5 7 per morata si è sbattuto tantissimo gli hanno annullato un gol un altro non l'ha fatto per via di una parata del portiere su una bellissima azione della juve poi dibala gli lascia giustamente secondo me il calcio di rigore lo trasforma fa gol e poi riesce tra gli applausi lui non proprio convintissimo lui non felice però bella partita ieri di albora 7 in pagella passiamo alle sostituzioni vabbè 6 per chiellini entra e fa il suo ci mette il nasone i piedoni e si porta a casa il 6 politico 6 pure per bentancur che entra non fa chissà che cosa ci mette lì due robe caio senza voto giocato troppi pochi minuti continua a non impressionare comunque nel senso che mi aveva ben impressionato nei primissimi minuti che aveva giocato non tanto col venezia ieri sera davvero poco però immagino che sia anche dato dal fatto che inizia a essere non troppo contento della situazione però dico una roba su caio perché in tanti mi stanno dicendo è si sta rovinando il fatto che sia giovane non non l'obbliga ad essere un giocatore in in rampa di lancio cioè non è che sia obbligati se l'allenatore non lo ritiene adatto pronto valido è giusto che non giochi non è che se arrivi che sei un buon prospetto allora devi giocare per forza sei uguale a tutti gli altri giocatori della rosa poi io non penso che sia così scandaloso non posso immaginare che sia così scandaloso da non meritare un minutaggio adeguato o nemmeno qualche minuto in più e questo è un altro discorso ma non mettiamoci in testa che se uno è giovane deve giocare per forza e mi collego qua da che che gli rientra benissimo si procura un rigore due o tre giocate di alto livello ottimo sei e mezzo in pagella bravissimo bravissimo sembra da glascosta è quando è entrato ha fatto due o tre robe da glascosta veramente impressionato in positivo però anche qui vi prego calma 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 perché io mi ricordo quando arriva felix a fena alla roma dopo la doppietta al genoa il giorno dopo il titolo sul giornale a fenomeno no ragazzi è il modo peggiore è il modo peggiore peggio se vuoi distruggere un giocatore fai così fai così lo esalti lo metti sul piano di più di quelli che sono i suoi compagni la prima squadra ora ragazzi bisogna dimostrare nel calcio è il calcio bisogna dimostrare sul lungo perché una partita una stagione un mese una settimana un filotto te lo fanno bene tutti tutti te lo fanno bene chi sono i calciatori che rimangano nella storia quelli che per tot anni mantengono tot continuità di prestazioni sui tot anni quindi benissimo che e spero di rivederlo con più costanza dato che abbiamo un buco adesso no sul discorso chiesa sul discorso chiesa abbiamo un buco che possa essere occupato da uno dei ragazzi dell'under mi stuzzica ma non chiedetemi che possano essere loro i titolari al posto di chiesa non chiedete ad un ragazzino che in questo momento gioca in serie c di fare la differenza in serie a nella juventus al posto del giocatore più forte perché questo è il modo migliore per disintegrarli poi che da qui alla fine dell'anno lo voglia vedere sempre di più nelle rotazioni e qualche partita magari pure dall'inizio questo sì mi farebbe un gran piacere ma vi prego non aggrappiamoci al discorso che ora dobbiamo puntare solo su questi perché non è così cioè non è così ragazzi se vogliamo fargli del male a questi facciamo così una juventus che adesso si sta ricompattando ma è la juventus più in difficoltà degli ultimi dieci anni è non dimentichiamocelo questo è buttare nella mischia dei giocatori in queste situazioni è un po un problema dopo c'è il meme no mi hanno buttato in mezzo del lupino sono uscito da capobranco definire così bravo a che sette di bala perché entra fa gol esulta esulta paolo di bala finalmente e poi lascia il rigore amorata leadership spirito voglia tecnica di bala ci mette tutte queste cose io non mi stanco più di dirlo la juventus questa questa juventus nello specifico perché non è vero che la juventus che non può permetterselo ma questa juventus non può permettersi di perdere il talento di paolo di bala questa questa qui quindi che vada rinnovato paolo di bala perché tante volte diciamo no ma lo dico io in primis questa juve non ha soldi non è che questa juve non ha soldi questa juve ne ha pochi e li deve centellinare le deve gestire nel migliore dei modi e infatti da qualche anno a questa parte un paio di stagioni a questa parte la juve fa grossi investimenti solo su giocatori nei quali crede davvero chiesa locatelli per forza di cose ci ha finito dentro ken ma non era un investimento programmato questo per niente vediamo se riusciremo a far non scattare l'obbligo l'anno prossimo perché l'obbligo scatta su determinate condizioni noi ignote della prossima stagione in caso contrario abbiamo il diritto di rimandarlo all'everton ma questo è un discorso a parte io spero che in realtà possa esplodere e che possa essere scattato per meriti più che per per contratti però sui cartellini dei calciatori investe solo in quelli su cui crede davvero a parte appunto quella situazione di emergenza ma sugli ingaggi sempre bassi da due stagioni a questa parte fateci caso tutti gli ingaggi che andiamo a dare un solo ingaggio fino adesso è stato sopra il livello degli altri uno solo quello di massimiliano allegri perché la juventus ha deciso di fare all in su massimiliano allegri quest'estate il top player della juventus nella testa della juventus ricordiamoci questo discorso che vi faccio nella testa della juve la juventus dice io lo stipendio grosso lo metto lì a prendere l'allenatore che secondo me può darmi qualcosa perché me l'ha dato in precedenza poi che vado a cozzare con il progetto iniziato l'anno prima questo sì e ve lo confermo perché per me questo è ma allegri rimane un grande allenatore io questo voglio passarvelo ragazzi questo è un concetto che voglio passare che voglio che continui a entrare nella testa allegri è un grande allenatore non è vero che non allena non è vero che non sia modernizzato non è vero che non ragazzi per cortesia poi può non piacere ma queste cose sono veramente mancanza di rispetto nei confronti del lavoro di un professionista e di un professionista serio vincente nella nostra storia uno degli anteri più vincenti nella nostra storia quindi possiamo dire che non ci piace come magari viene fuori la partita nella concezione di estetica del calcio ma tutto il resto veramente non lo possiamo mettere dentro eh ve lo chiedo per cortesia e la Juve fa quell'investimento lì oggi la Juve deve fare un altro investimento che è su Dybala che però è come prendere a parametro zero in questo momento perché se non rinnovi Dybala devi andare sul mercato cartellino ingaggio di un giocatore che nella Juve ancora non ci ha mai giocato e il cartellino deve essere elevato l'ingaggio pure tanti mi dicono non ci sono soldi è giusto non rinnovare Dybala in realtà risparmieresti addirittura rinnovando Dybala anche a quei famosi 10 milioni che sono 19 ok su 4 stagioni o su 5 stagioni dagli 80 ai 100 milioni trovami un altro giocatore che ora mi vai a prendere sul mercato per 5 anni che costi meno di 100 milioni tra ingaggio e cartellino secondo me non c'è poi magari mi fate un elenco di nomi e quei nomi possa risultare pronti per la Juve e vi dico bella idea ci ripenso io in questo momento sono di questa di questa opinione qua fatemi sapere un po anche la vostra abbiamo toccato un sacco di temi in queste pagelle mi sono piaciute queste pagelle ma quando la Juventus trova tanti gol in una partita tante soluzioni e i giocatori fanno bene penso che sia giusto anche spendere qualche minuto in più un abbraccio e grazie di tutto alla prossima grazie grazie grazie